Questa mattina verso le 12 è stata rapinata una gioielleria in via Udine. Il rapinatore, un uomo straniero probabilmente proveniente dall'est Europa, dopo una breve colluttazione con il titolare, si è dato alla fuga con un bottino di un valore non particolarmente rilevante. Sono tuttora in corso le indagini e le ricerche del movimento.